Il marino, il pesce e tra poco vedremo quale sorpresa si avrà riservato alla nostra pategana quale sorpresa Giovanni Giusti insieme al direttore che ci sono pensato, hanno ideato per noi per quest'anno, per questa edizione 2020 del Carnevale di Venezia per la nostra festa veneziana qui in Rio di Canareggio ecco, salutiamo Rosita, la pategana preferita eccola qui, si è sistemata e dalla peata Giovanni Giusti chiama Lanzaremi il saluto in omaggio a tutti voi che siete qui assieme sulle rive per assistere a questa prima giornata seconda giornata del Carnevale di Venezia Giovanni, se ci senti, immagino, speriamo di sì noi ti aspettiamo qui sul balco per dare il via alla nostra pategana insieme a te la pategana insieme a te la pategana insieme a te la pategana insieme a te ed ecco le imbarcazioni che stanno ed ecco lì Giovanni Giusto sono responsabile per le tradizioni del comune di Venezia Giovanni ti aspettiamo qui mentre vediamo le altre imbarcazioni come vedete abbiamo sale non abbiamo solo Venezia abbiamo anche amici ospiti dal lago di Como il ramo del lago di Como direi proprio il promesso dov'è? il promesso è che ci sono uno di qua non dirà praticamente separato piano che non ti vale capo la promessa vieni vieni Giovanni si esce ad arrivare da noi ce la fai? non sei ancora attrezzato per camminare sull'acqua vorrebbe un gelato allora se tu fai io ti introdurgo se vuoi no poi mi c'è la parla lì mi c'è la parla ci diciamo ad arrivarci sta arrivando ce la parla bene allora abbiamo no sta arrivando lui a noi sta arrivando lui a noi con il suo coro perché quando arriverà finalmente Giovanni Giusto qui il nostro delegato delle tradizioni sul palco finalmente insieme a direttore artistico insieme a Vela potremo finalmente vedere che cosa ci riserva questa panciuta pantegana questo questa nostra rosita eccolo si sta avvicinando mentre possiamo vedere le altre imbarcazioni che stanno che stanno arrivando sempre del corteo ecco i nostri galeotti li hanno ripescati li avevamo visti passare due ore fa che cercavano la fuga ma ahimè li hanno ripeccati e se stanno ritornando indietro allora passo indietro qui sulla riva grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti